Per noi come azienda di distribuzione è essenziale avere un pollo logistico adeguato a quello che è il livello di servizio che vogliamo garantire alla nostra clientela. Il precedente si è rivelato, data la crescita che ci è stata nell'ultimo decennio, insufficiente per questo tipo di funzione che ci aspettiamo di riservare alla nostra clientela e quindi la decisione è stata inevitabile, quella di trovare una nuova sede più capiente di quella che abbiamo avuto. Questo è stato verificato, ci abbiamo messo onestamente un po' a trovare la sede più idonea e quella di Treziano Sonoviglio dove siamo adesso ci dà tutte le garanzie per poter riprendere uno sviluppo importante nei prossimi anni. Siamo vicini a uno svincolo di tangenziale Ovest di Milano, abbiamo 6.000 metri quadri oltre di magazzino, 800 metri quadri di uffici e rappresenta 3-4 volte tanto quello che avevamo prima. Abbiamo potuto riunificare la logistica che avevamo anche all'esterno in questo polo di Treziano Sonoviglio, la rapidità di evasione degli ordini grazie alle maggiori dimensioni è aumentata tantissimo, quasi raddoppiata, quindi riusciamo a avradere quasi il doppio del numero degli ordini al giorno di quello che riuscivamo a avradere nella precedente sede e questo ci dà tutta una serie di conferme di quello che abbiamo deciso di fare con l'obiettivo che dicevo di servire al meglio, sia il canale specialistico dove abbiamo il nostro marchio record che è un marchio leader storico e leader anche nel specializzato, parli di indipendenti di catene specialistiche garden, sia nella grande distribuzione, distribuzione moderna e nel do it yourself dove abbiamo il macro best friend che raggruppa un po' tutto quello che è il nostro assortimento completo di accessoristica e di snack e anche di food per tutti gli animali più piccoli.